I reati sono pesanti, bancarotta fraudolente e documentale per avere distratto denaro ed altri beni per oltre 300.000 euro, connessi alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per 350.000 euro e dagli omessi versamenti di imposte, oltre che per reati di falso e di sostituzione di persona. I finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, con l'ausilio dei reparti del Corpo dell'Aquila e di Martina Franca, hanno eseguito quattro misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione al fallimento di una società avente sede legale nel capoluogo meneghino ed operativa a Silvi in provincia di Teramo. In relazione a questa vicenda sono finiti agli arresti i quattro abruzzesi, tre residenti in provincia di Pescara ed uno in provincia dell'Aquila, ritenuti responsabili a vario titolo del crack della società operante nel settore del commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti in plastica. I finanzieri nel corso delle indagini hanno accertato attraverso una mirata attività investigativa la vera identità di colui che sotto il falso nome risultava essere l'amministratore della società, il quale, pluri pregiudicato per reati specifici, utilizzando false generalità aveva stipulato numerosi contratti di fornitura di merce, atti notarili e contratti di noleggio di autovetture, oltre ad aver proceduto all'attivazione di rapporti bancari e di numerose schede telefoniche. I finanzieri sono stati messi sulla pista giusta da numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, mediante la ricostruzione di flussi finanziari e le connesse indagini bancarie e patrimoniali, nonché con l'acquisizione di documentazione contabile ed amministrativa che ha fatto emergere le condotte distrattive, oltre che gli illeciti di natura fiscale e le falsità in atti. I quattro arrestati, su disposizione del GIP del Tribunale di Milano, Valerio Natale, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa degli interrogatori di garanzia.